lucia sardo e marta in questo spettacolo che si intitola la rondina se lucia sardo e marta ed è una donna della mia età più o meno è una un incontro scontro fra due personaggi fra due creature fra due persone che hanno sofferto tantissimo e poi durante lo spettacolo si scoprono molto vicini in questo dolore sono io e il mio collega è luigi tabita che nello spettacolo si chiama matteo dell'impossibilità la difficoltà e la fragilità delle relazioni umane clua che il drammaturgo ha scritto questa pièce ispirandosi alla tragedia di orlando dove furono uccisi 49 ragazzi un bar gay nel 2016 si è ispirato quindi noi raccontiamo la storia appunto di alcune persone che sono morte ma lo spettacolo dà alla fine una grande leggerezza è come se ci fosse una grossa riconciliazione ognuno rivendica il diritto di del proprio dolore e comunque alla fine questi due personaggi si incontreranno e risolveranno diciamo il problema il dolore rimarrà la cicatrice sarà sempre forte e potente però ci sarà una nuova speranza io penso che l'arte deve sempre essere salvifica perché a me personalmente non interessa andare a vedere a teatro o al cinema le malattie degli scrittori le malattie dei registi io voglio una soluzione una possibile soluzione voglio che l'artista mediti pensi tanto perché noi abbiamo questa questa possibilità per provare a identificare una possibile soluzione e quindi qui c'è una soluzione in questo spettacolo in questo lavoro lo spettacolo è stato in tournée adesso è qui a palermo e poi concluderà con un punto la tournée a catania come reagisce il pubblico noi siamo veramente commossi ed emozionati prima dicevo che non è bello che un attore un artista parli bene di sé però siamo veramente non siamo sorpresi perché anche a noi ha fatto lo stesso effetto quando l'abbiamo letto la prima volta siamo veramente commossi perché la gente reagisce si commuove piange piange di commozione ci aspetta per abbracciarci quindi siamo veramente felici e fieri anche di fare questo lavoro